Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Un uomo armato di siringa ha rapinato il tabacchino di via Pradamano a Udine nel tardo pomeriggio di ieri. Un giovane tra i 25 e i 35 anni che indostava un cappellino e gli occhiali da sole ha puntato l'ago contro la donna che si trovava dietro il banco. Ha minacciato la tabaccaia amintimandole di consegnarle denaro custodito in cassa. La titolare che ha inaugurato la rivendita di sale e tabacchi solo due mesi fa ha consegnato quanto aveva in quel momento nel registratore di cassa circa 200 euro. Dopo aver afferrato il malloppio il rapinatore si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Non sono riuscita a reagire ci ha pensato la vittima ancora scossa da quanto accaduto. Mai mi sarei aspettato una rapina in pieno giorno non essendo mai stata rapinata non ho avuto la freddezza di oppormi. Davanti a me focalizzavo solo la siringa di cui ho fobia tanto da non ricordare bene nemmeno il volto del malvivente. Era molto magro, credo possa trattarsi di un tossicodipendente. Il sistema di video solleviglianza interno ha ripreso tutta la scena e il video è stato consegnato ai carabinieri. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile. Scoperta a grado una discarica abusiva con rifiuti pericolosi e speciali l'area è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza che ha denunciato il responsabile della società proprietaria del sito. Le fiamme gialle di Gorizia hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva nell'area di una società con sede a grado destinata ufficialmente al rimessaggio di roulotte. Con Polizia Locale e Forestale la Guardia di Finanza ha trovato rifiuti speciali e pericolosi, inerti da demolizione, materiali bituminosi derivati da smantellamento stradale, bombole per gas GPL, pneumatici, materiali RAI come frigoriferi, televisori, computer, monitor, condizionatori d'aria, olio esausto, mobili ovario, pallette, rifiuti, vegetali. In un altro punto poi c'erano materassi, imballaggi, teli di plastica e anche un'imbarcazione di 30 piedi in stato di abbandono. E poi 30 roulotte fatiscenti, delle oltre 500 presenti nell'area che ormai prive delle parti essenziali, non erano più idonee a essere trainate né utilizzate a scopo abitativo. Riscontrate violazioni al Codice dell'Ambiente che sanziona l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La società infatti non è in possesso di alcuna documentazione autorizzativa per l'attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti. Evidenziate anche violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica in relazione all'esecuzione di lavori e alla realizzazione di manufatti in assenza di permesso di costruire. Il rappresentante legale della società proprietaria dell'area è stato denunciato e segnalato anche agli uffici finanziari per l'evasione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi in discarica per oltre 20.000 euro. Sono in corso a Carlino dei controlli da parte dei vigili del fuoco, del personale dell'ARPA e dei carabinieri per la verifica di un presunto inquinamento nel canale che costeggia strada Sacile. Si tratta di una sostanza anomala riscontrata in acqua. La zona interessata è quella di Villa Bruna, esterna alla tenuta. Presentato questa mattina a Trieste il rapporto della Banca d'Italia sull'economia del Friuli Venezia Giulia tutti i settori hanno contribuito alla crescita che comunque è più lenta rispetto al 2017. Frenano le esportazioni, cresce la liquidità di imprese e famiglie e l'occupazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Continua a crescere ma a un ritmo meno intenso rispetto al 2017 l'economia del Friuli Venezia Giulia. Lo afferma la Banca d'Italia nell'annuale rapporto sullo stato dell'economia in regione presentato nel capoluogo Giuliano in una conferenza stampa dal direttore della sede triestina della Banca d'Italia Luigi Bettoni. Nel 2018 il rallentamento dell'economia regionale si è concentrato nella seconda metà dell'anno e ha riguardato la domanda sia estera sia interna. Tutti i settori, per la prima volta dopo anni anche quello delle costruzioni, hanno contribuito alla crescita dell'economia del Friuli Venezia Giulia. La produzione industriale è cresciuta dello 0,4% ma si è dimezzata rispetto a quella del 2017, indebolendosi soprattutto nei mesi estivi. Il fatturato industriale, al netto della cantieristica, ha rallentato la sua crescita e si è fermato poco sopra il 2%. Infrenata anche le esportazioni, in particolare per la siderurgia, che comunque sono riuscite a crescere del 5-9%. Sono tornati a salire i prestiti bancari alle imprese, più 0,8% che sale a più 3-4 con la cantieristica. Interrompendo così un calo cominciato tre anni prima. Continua a crescere la liquidità di imprese e famiglie. Buone notizie dal mercato del lavoro. L'occupazione è salita per il quarto anno consecutivo e ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo decennio. Il saldo fra assunzioni e cessazioni dal lavoro è stato positivo, grazie soprattutto ai contratti a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 6,7% ed è sceso ulteriormente al ricorso agli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda le famiglie, la Banca d'Italia ha rilevato una leggera crescita del reddito disponibile, intorno allo 0,6%, dopo la temporanea contrazione del 2017. Anche i consumi hanno proseguito la loro crescita, sebbene in maniera più lenta che negli anni precedenti. Sul piano finanziario, nella seconda metà del 2018, i prestiti bancari all'economia regionale hanno ripreso a crescere con un aumento, calcolato alla fine dell'anno, dell'1,8% rispetto al 2017. Secondo la Banca d'Italia, infine, è ulteriormente migliorata la qualità del credito. Presentato a Gorizia il programma di Verdi d'Estate e gli appuntamenti ospitati nel parco del Palazzo Municipale per l'estate goriziana. Tanta musica per tutti i gusti, divertimento per i più piccoli e grandi emozioni. Questi gli ingredienti della terza edizione di Verdi d'Estate, la stagione estiva del Teatro Verdi di Gorizia che prenderà il via mercoledì 26 giugno. Questa stagione estiva crea quella giusta liaison tra l'inverno e l'estate, tra il teatro al chiuso e l'aperto. Abbiamo una splendida cornice che è il parco del comune che tanti ci invidiano. Quale luogo migliore per offrire cultura, musica, spettacolo? Ce n'è, come dicevo, per tutti i gusti, pertanto teatro per bambini, ottima musica, il cantaquartieri, spettacoli di diversa natura. Quattro appuntamenti dedicati ai ragazzi, ai bambini. Mi piace portare a teatro le famiglie. È un momento per divertirsi e per crescere insieme. Quindi è una, diciamo, prosecuzione del fitto programma che noi facciamo per i bimbi e le famiglie al Verdi durante la stagione tradizionale. Saranno quattro appuntamenti. Poi ci sono quattro appuntamenti teatral-musicali in collaborazione con due strutture importanti della nostra regione che sono il Festival Nei Sonni e Nei Luoghi e Folk Est. E poi ho voluto chiamare un trio comico che ha vinto Italian Ghost Talent nel 2017. si chiamano i Tre Jolie, molto giovane. Ecco, mi piacerebbe che molti giovani quella serata potessero godere di questo teatro all'aperto che fra l'altro si trova in uno degli spazi più belli della nostra città. Tra gli ospiti del Festival del giornalismo, Di Ronchi è anche un esperto di geopolitica artica che ha potuto spiegare come i cambiamenti climatici influiscano sulle decisioni geopolitiche di alcuni stati. Damien De Georges, esperto di geopolitica artica, è stato ospito del Festival del giornalismo di Ronchi in una partecipata serata sul clima e i cambiamenti climatici. Prima di ripartire per l'Islanda, dove abita, ha potuto anche visitare alcuni luoghi simbolo del goriziano e proprio nella piazza transalpina di Gorizia lo abbiamo intervistato. So Damien, how did you find your attendance, your participation to the journalism festival of Ronchi? Molto bene, it was very good and my first time in the area and very pleasant also to visit the broader region and see the new Europe. That's my first time in the new part of Europe so I was very keen on watching that and so this festival yesterday with the event on climate change was very pleasant. Damien, come hai trovato la tua partecipazione al festival? Molto bello, è la mia prima volta nella zona, è stata anche una bella esperienza poter visitare la nuova parte d'Europa. Il panel sul clima è stato interessante, sia la cornice molto bella che i relatori, che ovviamente anche il pubblico presente. Tu hai parlato di clima e di politica, come possono i cambiamenti climatici influenzare le decisioni politiche di un paese, nel tuo caso specifico di studi dell'Artico? L'Artico è un caso di studio per le relazioni internazionali e per capire come queste siano modificate dai cambiamenti climatici. Ecco perché puoi vedere il mutamento dei rapporti internazionali tra le varie potenze, specialmente la Cina in quest'ultimo periodo. È un grande gioco fra Stati Uniti, Russia e Cina che continuerà ancora per un bel po' di tempo. Un incontro con i tifosi che gli hanno dedicato uno striscione fuori dallo stadio e poi le prime parole in conferenza stampa. Così è ricominciato la storia di Pierpaolo Marino, a Udine, da ieri ufficialmente nuovo direttore tecnico dei Bianconeri. Bentornato a casa Pierpaolo, si è ragione dello striscione firmato dalla Curva Nord. È in corso in questi minuti l'incontro con i giornalisti nell'auditorium dello stadio Friuli. Per me un ritorno a casa, in famiglia, io abito qui, ha detto Marino, ma ho cercato di far pesare poco la mia presenza. Ho sempre però pensato di tornare. Ora, poche chiacchiere, molti fatti. Grazie alla stampa, alla gente, per il calore e per l'affetto mi danno la responsabilità forte. Il mio sarà un valore aggiunto a una organizzazione già perfetta. Ritrovo alcuni uomini che ho scelto io e quindi sono nel contesto ideale per partire subito bene. Ha poi detto un nuovo direttore tecnico dei Bianconeri in mano, no? Ho il compito di fare stravolgimenti. Metrò in campo la mia personalità per tenere quanto più vicino la proprietà alla squadra. Ancora sport, siamo l'APUGSA che annuncia il rinnovo di Lorenzo Penna che vestirà la casacca a bianco e nera anche la prossima stagione. Una logica conseguenza. Dopo un'annata comunque importante e con tante responsabilità, la permanenza udile del giovane regista non è mai stata in discussione visto che anche il suo desiderio di rimanere nel suo percorso di crescita potrà continuare sotto le cure di coach Alessandro Ramagli con cui nel 2017 ha conquistato la Serie A la Virtus Bologna. In rinnovo, dice il presidente Pedone, rappresenta il premio per un ragazzo che si è contraddistinto in positivo e ha dimostrato sul campo grande attaccamento alla squadra. E si svolgerà per la prima volta in due stede diverse il torneo organizzato dall'AUC dedicato alla categoria Pulcine. Questa fine settimana le partite areana e zoppola. Saranno 350 i piccoli calciatori che daranno vita nel fine settimana alla diciassettesima edizione del torneo AUC per la settima volta dedicato ai Pulcini misti. e tante sono le novità di quest'anno. 24 le squadre partecipanti per la prima volta suddivise in due giornate di gara. Sabato, infatti, areana, sede delle ultime edizioni, si affronteranno le squadre della provincia di Udine o comunque più vicine al capoluogo friulano. Domenica, invece, a zoppola si sfideranno le formazioni anche in questo caso associate a un'udinese club della destra tagliamento. 16 squadre areana, 8 a zoppola ospitate dalla società del presidente Federico Vignoni-Mengarelli che nel 2017 si è giudicata la Coppa e lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in abbinamento all'udinese club Noi con voi. Nel fine settimana, quindi, saranno decretate le due squadre vincitrici che a settembre, con la ripresa delle attività sportive, si sfideranno in una finalissima al Bruseschi. Occasione, soprattutto, per loro per incontrarsi di nuovo e vivere poi tutti assieme da tifosi una gara interna dell'udinese, ospiti dell'associazione Udinese Club. Il torneo AUC, uno dei tornei per la categoria Pulcini più numerosi della regione, sarà patrocinato quest'anno anche dal comitato regionale della FIGC Lega Nazionale Dilettanti. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità l'appuntamento con AVOE e la linea per approfondire quelli che sono i temi del giorno con alcuni collegamenti dal territorio. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per la visione